Il nostro Riccardo finirà in tutto il 31 gennaio del 2016, certo, il dicembre del 2016, scusate. Certo, questa reunione l'abbiamo immaginata e desiderata anche con il nostro poeta Valerio Eregrini, che purtroppo non c'è, non c'è più del 2016, però conoscendolo da qualche parte sicuramente in questo momento ci sta guardando e anche noi sta festeggiando insieme a noi. Grazie. Ecco, per festeggiare degnamente questa reunion abbiamo pensato inizialmente di fare due concerti, una a Milano e una a Roma, questi due concerti sono diventati due concerti a Milano, a San Siro, una a Roma e proprio recentemente dopo, mi dicono, una sommossa popolare abbiamo deciso di aprire le prevendite anche a Messina perché era corretto che noi si lesse un respino anche quei termini. Per cui è un anno di grandi festeggiamenti, di grande emozione come dicevamo prima, però sono tali e tante le cose che accadono quotidianamente, le sorprese che sorprendono anche noi, che quotidianamente accadono delle cose nuove. Per cui da adesso, alla fine di questo anno di festeggiamenti, preparatevi ad avere un sacco di sorprese, credo, grandissime. Per noi sarà un'emozione indimenticabile. Tra tutte le sorprese che stiamo preparando ci sarà chiaramente una fotografia in musica di questa reunione, per cui uscirà un disco che raccoglierà il concerto di San Siro, sia in audio che in video. Sarà una cosa importante perché è realmente l'ultimo valse che viene filmato e registrato, sul quale ci sarà tutta l'emozione perché è una scelta non facile quella di decidere di fermare una carriera bella nel momento in cui tutto sta andando bene. Però è più importante fissare il bello che abbiamo fatto finora senza rischiare di intaccarlo o vederlo spegnere e sbretolarsi lentamente e allora noi abbiamo fatto questa scelta di chiudere in un momento in cui tutti ci direbbero di andare avanti. Oggi abbiamo visto sui giornali con gioia che il nostro Ferdinando Sazzano ha aperto la data di Verona all'Arena e l'8 settembre saremo all'Arena di Verona e lì sarà l'occasione, spero, mi auguro, ma già molti colleghi ci hanno chiamato, di condividere, di dividere la nostra musica con tanti amici che verranno sul palco con noi perché la musica è proprio bella quando si fa insieme ad altri. C'è stato detto anche ieri sera da quel grandissimo uomo al pianoforte Enzio e allora vogliamo seguirlo questo esempio, la musica è proprio bella se si fa insieme, proprio come la vita, come ha detto lui e quindi è vero non avremo tanti amici sul palco con noi. Dobbiamo dire che... Donazio. Sì, sì, Donazio l'acceso, adesso ... Dobbiamo ricordarci che quando è nata questa ipotesi di festeggiare questo problema, ci abbiamo messo un po' a capire che tipo di itinerare potevamo dare a questa roba. Abbiamo avuto diverse proposte di diversa matura, fare un milione e 600 mila concerti in giro per tutti gli argoli d'Italia, con i testimoni di Gerla suonare i campanelli e la domenica mattina e cantare qualcosa a tutti. Poi avevamo deciso invece di fare due concerti, perché ci sembrava veramente che fosse già il massimo riempire un Roma e un Milano. Abbiamo scelto il puntato grosso, grazie a Ferminando che ci aveva convinto appunto di fare gli stati quelli veri. E a questo punto abbiamo detto, abbiamo chiuso questa nostra cosa. Il fatto invece, come dicevano i miei colleghi, che si sono aggiunti a delle altre dati, è stato veramente un po' di mettere in limite alla rubidenza, nel senso che, mano mano che accadivano una cosa, ci rendevano conto che era importante andare avanti su questa cosa. Quest'idea in qualche modo ci sta accompagnando anche per i mesi che verranno, perché le proposte non finiscono di arrivare, il pubblico a quanto pare vuole ancora, forse per l'ultima volta, sicuramente per l'ultima volta, salutarci e noi vogliamo salutare loro. Per cui, tanto per fare la cosa fatta bene fino alla fine, faremo anche dei concerti inverno nei palazzi del sempre. Buon pomeriggio, io sono Riccardo Fogli, cioè anzi, io ero Riccardo Fogli e adesso sono Riccardo dei Pu, quindi se mi avete memorizzato nel vostro cellulare improbabile, cambiate il mio nome. Grazie, io non l'avevo mai visto tutti insieme, speriamo di rivederci, fino a tre c'era arrivato. Sono molto felice di essere qua, anche emozionato, anche troppo, l'emozione non va molto di moda. Quando mi hanno chiamato i Pu mi hanno detto se fa la riunione, si fa due stadi, forse tre. Io ho salutato lei e moglie, ho detto ci si vede fra un po', non l'ha vista per trenta giorni. Ora, tra gli stadi che diventano due giorni di quattro e di là, si va in tutta Italia, poi sembra in tutto il mondo a settembre, e io mi chiedo, Pu, posso portare dietro a mia moglie? Non ve ne frega niente. Va bene, seriamente, grazie di essere qui, i Pu vi faranno sapere quali sorprese abbiamo nella manica, perché ogni giorno in Pu se ne inventano una nuova. Buon passaggio di un vinto. Bravo, bravo Riccardo. Ragazzi scusate, io vorrei prestare di questa occasione, ma...